Max, questa sera un'Italia un po' troppo anonima. Sì, brutta gara, abbiamo sofferto tanto il fatto di non riuscire a mettere la palla a terra al primo colpo e questo non deve succedere perché ci sono squadre brave che sanno toccare tanti palloni a muro dipende da ricostituire, questa è la loro forza, noi assolutamente non dobbiamo spazientirci quando è la stessa cosa che è successa contro il Canada, dobbiamo migliorare il testo perché poi le partite sono lunghe, capita, calde di giocare contro squadre forti, che è forti in questi fondamentali quindi noi non dobbiamo spazientire ma dobbiamo essere brave a giocare lezioni lunghe. Senti, al di là di questi aspetti che comunque sono importanti, forse quel secondo set in cui 8 quale sprecate un po' va tagliato le gare? Sì, adesso non so quante ne abbiamo sprecate però eravamo 18-12, qualcosa del genere, insomma un grande vantaggio, ne abbiamo sprecato per degli errori perché loro hanno fatto delle cose buone e questo naturalmente in queste gare con le squadre di alto livello non deve succedere perché poi devi essere bravo a chiudere quando hai le occasioni, le squadre forti non te ne regalano mille te ne regalano una o due e tu devi essere bravo a chiudere. Grazie.